E ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui per un video speciale, per un video dove appunto voglio spiegarvi il vero finale dello straordinario mondo di Gumball. Tutti noi sappiamo che purtroppo lo straordinario mondo di Gumball, cioè quella fantastica serie che ci accompagnava fin dal 2011, è finita. Il 24 giugno del 2019 è andata in onda, ovviamente solamente in America, visto che qua in Italia deve ancora arrivare, l'ultima puntata dello straordinario mondo di Gumball. Ovviamente i fan di Gumball non l'hanno presa molto bene e questa è stata la risposta che Ben Boclet, il creatore dello straordinario mondo di Gumball, ha dato su Twitter. Sì, uscirà un film su Gumball. Però ora arriviamo al dunque, arriviamo a ciò che ci interessa per davvero. Ragazzi, la verità è che... Elmore è soltanto un glitch. E sì ragazzi, è proprio così. Infatti, se ci pensate, è come un gioco. Ogni personaggio ha un proprio destino, ha una propria cosa che deve fare. E se si cambia qualcosa, beh, succede un casino. Come appunto vediamo nell'episodio Il Lavoro, dove Richard, il padre di Gumball e Darwin, prova a fare il fattorino, cioè a chi vende le pizze. Ovviamente non è quello il suo ruolo nel cartone e quindi si glicia tutto. Ma ora andiamo ad analizzare l'ultima puntata dello straordinario mondo di Gumball. Nella scuola di Elmore arriva il sovrintendente chiamato Evil, che, per l'appunto, critica tutta la scuola, presidente e anche alunni, facendoli trasformare in persone reali. Proprio come lui. Gumball e Darwin, in un modo o nell'altro, riescono a salvare tutti e a farli ritornare nella loro forma originale. Ma, verso la fine dell'episodio, scopriamo che in realtà il sovrintendente è proprio l'arci nemico di Gumball, cioè Rob. Rob dice che tutto ciò che ha fatto l'ha fatto per un motivo, ma non viene ascoltato dagli altri. Rob riprende conoscenza durante la notte, quando si sveglia ed è da solo a scuola. All'improvviso, proprio sotto ai suoi piedi, si apre un qualcosa di inaspettato. E così si conclude la puntata. Bene ragazzi, il video può anche finire qua, ma... Aspettate un attimo. Ragazzi, se ci pensate, il finale della serie di Gumball lo sapevamo già molto prima. Infatti, nell'episodio Il Futuro della sesta stagione, Rob conosce la mamma di Banana Joe, Banana Barbara, e la usa per cambiare gli eventi futuri. Se ricordate l'episodio L'Oracolo della terza stagione, la mamma di Banana Joe vendeva i suoi quadri, che ritraevano il passato. Il passato negli episodi precedenti di Gumball. Tranne in un quadro, proprio il quadro che state vedendo in questo momento, che, per un motivo o per l'altro, si avvera. Infatti, nell'episodio 34 della sesta stagione, quello che abbiamo visto prima, Il Futuro, vediamo la mamma di Banana Joe, che, appunto, aveva già disegnato ciò che sarebbe successo nel futuro. Ma esattamente, cos'è quel posto dove cade Rob? Bene, ricordate l'episodio della terza stagione, intitolato Il Vuoto. In questo episodio, Gumball e Darwin devono cercare Molly, e il Signor Sboll, per aiutarli, li porta fra le cose dimenticate dal mondo, fra le cose sbagliate del mondo. Ed è proprio da questo posto che proviene Rob. Ed è proprio questo il posto dove tutta Elmore viene inghiottita. Ma andiamo di nuovo all'episodio L'Oracolo, dove vediamo una cosa alquanto strana. Guardate, questa cosa qua, questo disegno che ha fatto la madre di Banana Joe, ancora non è accaduto, ma sicuramente succederà, come è stato con Rob o il quadro per Gumball. e accadrà durante il film che ci sarà, visto che ormai la serie è finita. In questo quadro possiamo vedere la famiglia Waterson con tutta Elmore, dentro appunto alle cose dimenticate del mondo. Quindi ragazzi, durante il film vedremo la famiglia Waterson che cercherà di salvare Elmore. Bene ragazzi, il video può anche finire qua. Io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e attivate la campanella se non l'avete ancora già fatto. Noi ci sentiamo in un prossimo video. Ciao!